Il caro Energia sta colpendo famiglie e imprese. A pagare il conto più salato, come ci ha ricordato la CGA di Mestre, sono soprattutto le piccole aziende che pagano il 75% in più di energia elettrica e il 133% di gas in più rispetto alle grandi. Il Governo deve intervenire e chiediamo che la questione venga affrontata già questa settimana in Consiglio dei Ministri. Così il senatore Udc e presidente nazionale del partito Antonio De Poli. Molte aziende si sono trovate costrette a introdurre o potenziare i turni di lavoro di notte per abbattere i costi energetici. Rispetto ai paesi del resto d'Europa, le nostre imprese pagano in media il 15% in più per quanto riguarda il costo dell'energia. Serve un intervento per affrontare l'emergenza, afferma De Poli, e in parallelo altrettanto indispensabile definire una strategia di medio-lungo termine, anche attraverso il coordinamento dei paesi dell'Unione Europea, su un problema che riguarda tutta Europa.